Un'altra tappa obbligatoria in questa fantastica parte di Sicilia è proprio Scuopello. Questo piccolo coltetto selvaggio ci ha lasciato senza parole per la sua autentica bellezza. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Nel mare Scuopello lungo la cossa si trova questa spiaggia caratterizzata da sassi bianchi e piccoli sassolini colorati. Questa è la meta ideale per cui vuole godere di un bel bagno senza i fastidi della sabbia. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Questo paese, situato a 750 metri di altitudine sull'omonimo monte, è un'altra località che non deve mancare nella visita della Sicilia nord-occidentale. Con il cielo sereno da cui si può godere di un panorama fantastico, ma è proprio quando si alza la nebbia che in questo splendido paese dall'aspetto medievale perfettamente conservato, cala un'atmosfera magica che ci riporta indietro nel tempo, quando dall'alto dei suoi 750 metri, Edice fu testimone e punto di osservazione privilegiato delle guerre che nel Mediterraneo videro contrapposte le potenze di Roma e Cartagine. Grazie a tutti! Grazie a tutti!